Grazie a tutti Scenderemo, danzando su dei trampoli, Maria Maddalena, patrona di Anguiano, piccolo villaggio al centro della Spagna. L'origine della danza si perde nella notte dei tempi ed è documentata solo a partire dal 1603. Scenderemo la scarinata volteggiando sui trampoli. Sempre ballando, discenderemo la via principale, ripida e stretta, a noi intitolata. Non sappiamo esattamente da dove nasca questa danza. I trampoli erano un mezzo pratico per camminare in zone umide e, per i pastori, osservare il gregge da un punto più alto. La teoria più accreditata è quella di una danza di origine celta. Rappresenta un ballo in un'ora del sole durante il sostizio d'estate. Il colore giallo della gonna lo ricorda. Sicuramente un rito pagano che è stato integrato nel cattolicesimo molti anni fa. La teoria più accreditata è stata integrato nel cattolicesimo molti anni fa. La teoria più accreditata è stata integrato nel cattolicesimo molti anni fa. La teoria più accreditata è stata integrato nel cattolicesimo molti anni fa. La teoria più accreditata è stata integrato nel cattolicesimo molti anni fa. La teoria più accreditata è stata integrato nel cattolicesimo molti anni fa. la teoria più accreditata è stata integrato nel cattolice. La teoria più accreditata è stata integrato nel cattolice. La teoria più accreditata è stata integrato nel cattolice. la teoria più accreditata è stata integrato nel cattolice.